Allora, Caterpino Riem, buongiorno. Perché evidentemente non è stato un anno particolarmente pacifico, diciamo così. E invece chi ha vinto tra Biden e Ryan? Natasha, il tuo parere? Eh sì, perché io mi sono inconsultamente svegliata alle tre e mezza senza sveglia questa mattina e quindi mi sono messa a guardare il dibattito. Su che rete? Scusa. È sull'All News, Migliore d'Italia. Grazie, grazie Natasha, grazie. No, non so se lei è d'accordo, direttore, però a me sembra che, devo dire, ahimè, mi sembra proprio che abbia vinto di nuovo la parte repubblicana, mi sembra che Ryan sia stato più efficace. Parlo di comunicazione, non lo so, Biden è vero che era aggressivo, ma forse persino troppo, aveva un po' secondo me quasi di arroganza, di supponenza. E' questo dito sempre puntato contro la giornalista, tra l'altro, perché non si capiva bene il senso. Sì, non era molto. Lui lo chiamano il mastino, Biden. Sì, sì, lo so, però Ryan forse poi, non lo so, in questa società dove conta molto anche l'aspetto, l'essere giovani, Ryan sembrava, nonostante dica delle cose che io non condivido, insomma, però sembrava... Più affascinante? Sì. Più catchy? Sì, sembrava... E' un po' il Renzi americano? Beh, no. Allora, adesso, dopo Marchionne, non si sa che cosa dice. Eh, il Renzi americano. Sentite, il nostro Molinari diceva che è stato un match pari, che lui ha visto Biden all'offensiva e che questo gli sembra, diciamo, la premessa per un possibile rimonta di Obama, anche se che ha perso moltissimo nei sondaggi dopo la sconfitta nel faccia a faccia con Romney. Io vi proporrei di sentire qualche giornale con il nostro Paolo Cappelli che li sta monitorando. Io dormivo, Natascia, questa notte. Mi sono andato alle 5 e mezza, come al solito. Mi sono andato un giro anch'io. Ma sì, sì, forse... Natascia forse ha scritto l'analisi sul New York Times, perché in effetti il quotidiano americano analizza proprio la postura, il comportamento, i gesti dei due candidati alla vicepresidenza, anzi uno è il vicepresidente in carica, Biden, e appunto arriva a queste conclusioni, un atteggiamento che potrebbe essere stato interpretato da molti come eccessivamente altezzoso, distaccato, quasi sprezzante da parte di Biden rispetto a Ryan, quasi lo considerasse una sorta di aspirante o di, appunto, junior assistant. Però, dice anche il New York Times, poi bisogna, come sempre fanno gli americani in questi casi, anche fare un esercizio di fact-shaker, ovvero andare a vedere i fatti. E qui, sulla politica fiscale, Ryan è sembrato in difficoltà. Un Ryan, volevo anche far vedere questa foto a Natascia, e non solo, che i muscoli li sa usare, perché queste sono alcune foto pubblicate da Time poche ore prima del dibattito, che lo vedono in palestra, un vero e proprio... Ma va che roba! Eccolo qua, con tanto di iPod alle orecchie e pesi in mano. Tra l'altro a me e lui, tu prima hai detto, Renzi, adesso che ci penso, vedendo il suo volto, invece mi ricorda un giovane Sarkozy. Ah, è vero, è vero, potrebbe essere un po' più alto, però è vero. L'attaccatura nei capelli, sì. Beh, Ardemagni, io e lei ci facciamo le stesse foto per lunedì, così le mandiamo in onda anche noi. E poi, direttore, l'altra grande questione, invece qui ci facciamo un pochettino serio e vogliamo sapere la sua opinione, è quella su cui abbiamo sentito i telespettatori. Il video shock, così è stato definito, quello del bambino di Padova prelevato fuori da scuola, a Cittadella, abbiamo chiesto ai telespettatori se era giusto mostrarlo oppure no, il garante per la praga si è detto no, non andava mostrato. Il parere è abbastanza univoco. Sì, si scontravano appunto due principi, quello del diritto di informazione e del diritto di sapere, di essere informati da parte dei telespettatori contro la tutela del bambino, contro anche la tutela della fragile psiche, supponiamo, di un ragazzino di quell'età. I nostri ascoltatori sono stati assolutamente netti nel dire che era giusto mostrare questo video. Ovviamente è una statistica, è un sondaggio che non ha valore scientifico, però soltanto il 13% al momento, dopo tantissimi voti e tantissimi pareri, ha detto che era giusto non mostrarlo. Quindi il 87% lo volevano vedere. Su Facebook Caterpillaram si può continuare a discuterne anche adesso. Lei cosa dice, direttore? Ne ha parlato ieri sera anche nel punto delle 20. Lo sai, io sono come canto in questa cosa, cioè la legge è dentro di me, ma intanto la legge, diciamo, come io devo, ma poi il punto è che rimanda a quello che è l'opinione pubblica, alla sensibilità del momento. Quindi sono d'accordo con i vostri spettatori. Un video così si deve mostrare. A proposito, oggi c'è un bellissimo pezzo di Adriano Soffri sulla Repubblica che dice, in coda al suo pezzo, ho saputo di una legge che praticamente è in via di discussione, di approvazione, per cambiare, che cosa, lo stato, diciamo, dei figli naturali, cioè quelli nati fuori dal matrimonio. Perché oggi i figli naturali non hanno parenti al di fuori dei genitori. Quindi se nel caso estremo perdono entrambi i genitori, vengono messi in case, in comunità, esattamente come questo ragazzino. E lui dice, non è possibile che non ci sia uno stesso trattamento. Allora, permettetemi di dire, chissà che ne avrebbe pensato Giovanni XXIII, perché quando ha fatto il discorso alla Luna, ieri, 50 anni fa, ha detto, andate a casa e date una carezza ai vostri bambini. Non ha detto, date una carezza ai figli legittimi, quelli nati del matrimonio e non quelli naturali. Quindi, Sofri, l'avevo letto anch'io questo brano prima, ha mille volte ragione. E poi, fra l'altro, nell'articolo racconta in modo dolente i torti delle due parti che si contendono questo bambino che abbiamo fatto vedere. Sì, assolutamente sono d'accordo con te. E lo stesso Papa, citato ieri dal Papa Ratzinger, che ha ripetuto le stesse parole. E poi, direttore, in chiusura ci lasci fare un cenno a quanto sta accadendo qua in regione Lombardia. Abbiamo sentito, pochi minuti fa, andando dalla chiesa, che ha detto, insomma, non ci dispiacerebbe sentire delle parole un po' forti, per esempio, da chi fa impresa in Lombardia. L'abbiamo sentito dire in Sicilia, no? Confindustria, quando ha preso posizione in maniera forte contro la mafia. Ebbene, qui si scopre che in Lombardia c'erano voti di scambio con l'Andrangheta e ancora non si sono sentite parole tuonanti da parte, per esempio, di Assolombarda, per esempio della borghesia illuminata milanese. Che cosa aspettano a farsi sentire? Questo ci ha detto poco fa Nando Dalla Chiesa. Sì, ma non c'era bisogno di quest'ultima conferma, sia pure al tantissimo livello. Stiamo parlando della giunta regionale di una regione che ha un 10 milioni di unità. La più importante regione italiana. Quasi il Belgio ne ha 11. Potrebbe essere una nazione della UE. Nella giunta c'è uno che prendeva i voti dall'Andrangheta e c'è una certa acquiescenza in giro. Attenzione, c'è però Cinzia Poli al telefono. Eccomi, la regione Lombardia non ha un consiglio, ma un'offerta che non può rifiutare. Quella è quella del padrino. Eh sì, effettivamente questo assessore che è stato arrestato proprio gli hanno fatto un'offerta che non si può rifiutare. Il tono di voce dice ti freghiamo con le patate, diciamo, le patate per lui erano cose molto concrete. Grazie Cinzia, grazie a tutti quanti, buon weekend, ci vediamo lunedì. Arrivederci. Arrivederci.